la gara sta per partire questa è la postazione in cui ci troviamo oggi è il 15 di aprile 2012 ed è la seconda edizione della gara morano campo tenese gestita dalla morano motorsport anche oggi le condizioni climatiche sono quelle che sono c'è cattivo tempo sta quasi per piovere e noi siamo qui accanto alle forze dell'ordine altri veicoli che controllano la situazione protezione civile tutto il rimanente vedere questa manifestazione saranno due manci ricordiamo grazie